Avvicinavano le donne intente a caricare la spesa sull'auto e dopo averle distratte con una scusa sottraevano loro la borsa contenente il denaro e le carte di pagamento. I carabinieri delle stazioni di Camucia e Castiglion-Fiorentino, al termine di indagini approfondite e dopo qualche giorno rispetto agli eventi, hanno individuato e denunciato un gruppo di tre uomini, un 61enne residente a Milano, un 34enne ed un 27enne disoccupati, gli ultimi due stranieri, dediti al furto con destrezza nei parcheggi dei supermercati. I carabinieri, a conclusione delle indagini eseguite in collaborazione con i colleghi della Compagnia di San Giovanni e Valdarno, hanno raccolto molteplici indizi che hanno consentito di individuare i tre come gli autori di due furti il primo dicembre a Camucia e Castiglion-Fiorentino. In questo caso erano state prese di mira due pensionate. Complessivamente il bottino delle due borsi ammontava a carte di credito un iPhone 12 e alcune centinaia di euro in contanti. Le indagini subito avviate dai carabinieri hanno permesso di individuare e di identificare i tre uomini, che sono stati poi intercettati nel territorio di San Giovanni e Valdarno, grazie alle indicazioni fornite dai colleghi di Cortona da parte dei carabinieri valdarnesi. Sono in corso ulteriori e specifiche attività investigative finalizzate ad accertare se i tre possano essersi resi responsabili di altri eventi criminosi di analoga natura accaduti recentemente proprio in Valdichiana.